Ottimo Ma hai lasciato degli oggetti alle tue spalle No, meglio lui La scena è uguale e identica Sono qui Ho la chiave però La Non lo faccia più signore Stavo oltrepassando il cancello così Come uno spettro Dove fai? Solo qui Annaccia Bravo che mi dà le carote d'oro Bravo Sono troppo veloce per voi Grazie Merlo Ciao Sì, ci vediamo Merlo Salve a tutti E bentornati su Bugs Bunny Lost in Time Dove siamo arrivati? Ah Un'ora fa circa Ho provato a completare qualche livello Che non sono riuscito a finirlo E ho preso ancora un orologio e ho sbloccato la dimensione X Mi ricordo fin troppo bene questo livello Il livello della dimensione X Fin troppo bene E' questo che ho sbloccato mi sembra Sì, il pinetta X file Sveglia 14 Carote d'oro 26 Poi Allora Un livello Poi Questo è Mi sembra che questo livello qua E per andare a affrontare il boss No, era questo Il razzo Forse il portale lì era per andare Sulla luna che doveva fare una gara con il piccolo extraterrestre E poi il livello definitivo L'ultimo livello, diciamo Che è il più disgraziato Ma noi Non possiamo ancora fare nulla di questi livelli A parte questo E quindi Sono pronto per morire 30.000 volte di fila Ma prima Cazzinga Ma è un orologio Non è un terrestre Ok, allora Innanzitutto Dove devo andare? Qua è già il livello più Labirintico degli altri Salve Ah, bene Ah Aia Ah, dai, 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 dai Due carote Tre carote Ah Dai, 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 dai E questo? Attiva, questo Ah, bene, bene, bene Non sapevo proprio dove andare io Quindi Forse ho fatto male Forse ho fatto male Forse ho fatto male Di poco E ancora Basta Devo andare via Piano 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 Ok Allora Ho conosciuto Più o meno La zona Adesso Bisogna capire Dove dovrei andare Ah Ah, laggiù c'è un jackpoint Approfittiamone subito Se non ricordo male Qua dovrei beccare Sì Un extraterrestre E un robottino Sì Eccolo Tutto È regolare Tutto Oh Non so dove Cosa devo fare Ah E quindi come No, 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 no No, no Abbi pietà signor robot Con il raggio congelante No, no E mi becca E qua che devo fare Oh 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 Dove sto Andando Exit Ok Non so dove sono andato Se c'è Aspetta un attimo Ah Aspetta Sono già qui? Ah Ah Ok Adesso ho capito Tutto collegato quindi Mi ci varrà un po' Per capire dove devo andare Allora Qua non devo più Allora Adesso devo capire Il robot Laggiù Perché Mi hanno detto Che È possibile Controllare il robot Ma Come Allora Primo Dovrei superare L'alieno Ciao Togliti No Meno male che mi porta qua No No Di qua Allora Quelle piattaforme Verdi Sono Quelle Appaiono E scompaiono Non c'è un No Facciamo un altro giro Sulle montagne Rosè Aio Ma no Rappa Uffa È cattivo Quel robot Cattivo Non ricordo Assolutamente Niente Di questo livello Anzi Se non ricordo Mamma Se non ricordo male Mia mamma Era arrivata Fino a qui Poi Il vuoto E poi L'ha finito Ma non so Come l'ha Come ha fatto Sì Molti giochi Della play 1 Li ha giocati Prima mia mamma Perché io Ero piccolo Piccolo Io stavo Silenamente Lì a guardare Ma adesso Che sono grandicello Ormai i giochi Li faccio io Ormai sono Io quello Che gioco di più Mia mamma Ormai ha abbandonato No 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 Devo fare in modo Annaggia Spara a quello Non a me Robot Oh No 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 Si Cattivo Non l'ho fatto Niente Solo Devi andare avanti Il problema È che Devo per forza Andare Aspetta Ma dai Devo passare Di lì Stront Ciao 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 Ah, potevo distruggerlo! Sto esplorando posti nuovi! Di nuovo con il robot! E basta! Due orologi, a quanto sto? Allora, due orologi su quattordici, dieci carote d'oro su ventisei. Ah, adesso... Eh, cazzo, 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 no! Grazie robot! Eh, mo, vieni a raggiungermi! Mannaggia lui! Ok! Ok! Puh, 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 puh! Eh, mi sa che ho già finito il livello, se vado di là. Opla! Dai, dai! 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 Yeah! Vai, vai, vai! Oh! Pure! Allora... Ah, no, 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 no! Entrata! Entrata? Entrata per cosa? C'è un altro pezzo di livello? Non lo so! Non so nulla! Ma esploriamo qualcos'altro! Vediamo se... Vediamo se... Vediamo se... Troviamo qualcos'altro di interessante! Uscita! Ok! Non ci sto capendo niente! Vado avanti! Vado avanti! E vediamo che succede! Oh, che bello! Due di questi! No! C'è una porta laggiù! Vino! Posso entrare? Alve! Oh, dove mi può? Cosa nascondete? No! Non voglio passare anch'io! Voglio anch'io andare... Di là... Cosa nascondete voi? No, 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 no! Ti prego! Sono così buono! Sono un coniglio così adorabile! Robot! Vieni qua! Brava robot! Opla! Ciao robot! E adesso dove andiamo? Sto prendendo almeno tutto? Base, base spaziale, area 4! Dove sono? Sto esplorando nuove zone! Mi dovevo buttare! Mi dovevo suicidare! Dovevo farlo! Per la causa! Frame! Ok! Oh! Bello! Allora! Uno! Due! E tre! Dove andiamo? Dritto! E questi? Dopo! Allora! Di là non posso passare! Quindi... Serviranno a qualcosa in futuro! Adesso non lo so! Quante crote sto prendendo! Che bello! Dai! Positivo! Allora andiamo di qua! Cro, cro, cro! Ah! Ho preso troppe volte la scossa! Abba là! Ah! Ecco cosa servivano! Ora potrei andare di lì! Ma prima vorrei controllare anche l'altra zona! Ah! Ancora! Banne! Oh! 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 Bravo! 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 Sono fiero di te! Aspetta! Se volo di qua che succede? Eh! Pusto! Non posso andare di qua! No! 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 Allora andiamo di qua! Uno! Due! E tre! Uh! Uh! C'è un timer! No! 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 Dai! Vai! Sì! C'ho fatta! Adesso dove devo andare! Di nuovo! Quante strade! Troppe! È un abirinto! Non conosco niente di questo luogo! Cosa va a questo? Che ho fatto? Era per tornare indietro! Ormai non devo tornare indietro! No! Sai! Uh! Ok! Un occhio brutto! Un occhio brutto! Ah! C'è un brutto occhio! Cosa vuole? Ah! Ho capito! Non mi vuole! Va bene! Vado via! Aspetta! Non è che... Attivando questo... Ah! No! Spengo lì! E spengo anche lì! Ah! No! Non ho spento niente! Ho attivato un ascensore! No! 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 Non compro niente! Stai tranquillo! Me ne vado subito! Adesso devo solamente... Attivare questo dispositivo! Ho toccato verloren! Ok, sono passato Posso anche aspettare Passato più, Lan Sono stanco E tutto il giorno che corro Basta Non ne posso più Oh, che bello Giro, giro, tondo Tutto, aia Non è tanto bello questo giro, tondo, però, eh Aia Mi fanno male Tanto male Ok No Non mi freghi te Ora No Cos'era? Aspetta Che succede? Troppe cose alla volta Cosa Cosa succede? Ah Dove sono? Sono qui Ok E fin qua ci siamo No E basta No 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 Ok Ti ero fregato Io non ho mai capito Come ho fatto a morire Qui Avrò Avrà fatto qualcosa Aspetta, aspetta No, no, no Aspetta Ok Checkpoint Checkpoint E il tasso salto Per muoviti E il calcio Per colpire Ganzo, eh Oh, grazie Davvero? Posso controllare il robot? Posso controllare il robot? Fottuti geni Posso controllare il robot? Sì Yahoo Dove devo andare però? Per usare l'ascensore Per mettere sto cerchio Eh Da 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 Ah, devo disorgere tutte le difese? Ah, no, ha già distrutto Quindi Ok Robot Per far Ti sei distrutta Ah, no, 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 no Sono più cazzuto io Ah, ah, ah No Troppi Ah, ah Che, che, che No, ho perso un braccio Ho perso un braccio No No, 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 no No Mannaggia Ah Ah, ricompare Perfetto Grande Holy, holy, hula hop Questo lo dovrò fare Ehm, ascensore? E poi quando ho finito col robot Che faccio? Piano Piano Posso distruggere questi, vero? Aspetta, eh Sembra di no Vabbè Tanto Non ci interessa Spero Non puoi andare più veloce, vero? No, non puoi andare più veloce Puoi sparare Puoi Saltare Puoi fare Puoi azionare gli ascensori Ma non puoi Correre più veloce di così Ah Bastardo Oh Ah Mi sento meglio Mi sento veramente Meglio Adesso Prima tappa Vì qua Là Orologio Mio Fuori uno Là Corriamo 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 Orologio Olli olli Ulla hop Vai Là Uno E due Aspetta, quanto me mancano? Ah, me mancano due Però gli orologi Non so se riesco a prenderli tutti No, 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 no Sbagliato R1 Prego E qua È entrata Dove ci porta? Io ho paura Perché poi mi devo fare un giro particolare Io non ce la voglio Modulatore spaziale Where am I? Non dimentiché questo è il livello finale Ed ho ancora prendete le cose Ma mia stommaz... Che devo fare qua? Ah 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 D'accordo! C'è qua? C'è qua? C'è qua? vieni qua ah e scappa via non posso controllare io ovviamente il raggio mi sa tanto che mi manca qualcosa ho fatto male mi sa ad andare direttamente lì eh o almeno che il livello non finisca qua fatemi capire era un boss secondario ma l'immagine di ca no non è un boss secondario sono trovato indietro scusi merlino gli oggetti nello specchio sono molto molto vicini ma si dai allora vediamo cosa abbiamo saltato mi sa che ho saltato un orologio e il carote mi sembra che l'ho preso no aspetta allora un orologio e due carote quindi avevo quasi finito il livello solo che mi sono dimenticato di prendere ancora una cosa diciamo che non sapevo niente non pensavo che andando lì arrivo direttamente al boss e poi finiva lì eh il livello però visto che vabbè sono 34 minuti ma con la magia del taglio posso fare qualcosina in più e come extra vorrei completare quel livello che abbiamo appena sbloccato quanti orologio abbiamo? 53 ah perché il massimo era 50 cos'è? aspetta quanti livelli sono? ah no ci sono 4 o 5 livelli però non mi ricordavo che ci fosse un livello qui no non me lo ricordavo allora 4 sveglie e 15 carote vediamo un po' oh eh maxi guarda un testimone prendi quello stupido conì no Ah, questo è un inseguimento Io dovevo scappare Figo Dai, dai Ti prego Ah, ma io in questo checkpoint, questo almeno se devo morire non devo non rifare quel percorso orribile Piano, dopo piano No, 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 ok Io ho fregato Io non ho mai capito, come ho fatto a morire fin qui? Boh Avrò Ah, ha fatto qualcosa Aspetta, aspetta, no, no Aspetta Ok Take point, take point Ma come faccio ad arrivare, va via Questo Wow, puoi superare queste console per controllare il robot Utilizzare i tasti direzionali E il senso sempre per muovere il calcio e per colpire Ganzo, eh Oh, grazie Davvero posso controllare il robot Posso controllare il robot Sono tutti geni Posso controllare, controllare il robot Sì Yahoo Dove devo andare qua Se lo usavo la scensora come tutto c'è Ah, non sono tutte le difese Ah, no, è da distrutto quindi Ah, ok Robot! Ah, ti sei distrutta Ah, non ho più cazzato io Ah, ah, ah No, troppi Ah, ah Che, che, che No, questo braccio Oh, questo braccio, no No, 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 no Annaccia a ricordare perfetto almeno di una coppia e poi quando ho finito col robot che faccio piano piano posso chiuso a cercare aspetta eh mi sembra di no vabbè tanto non ci interessa spero non puoi andare a fare un po' no non puoi andare più veloce puoi sparare puoi saltare puoi azionare l'ascensore ma non puoi correre più veloce di così oh bastardo oh oh mi sento meglio mi sento veramente meglio adesso prima tappa di qua ora loggio corri uno la corriamo 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 oh loro non avrò due mia ora adesso ho li ho li un hop vai la uno eh due aspettate me ne mancano me ne mancano due però gli ero all'oggi non so se riesco a prenderli tutti no 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 sbagliato r1 prego e qua è andato da oggi porta io ho paura perché poi mi devo fare un giro a parte di qua io non ce voglio modulatore spaziale quale amai non dimentico questo è il livello finale vedo che ho prenduto le cose ma mia salma che devo fare qua a ho capito devo evitare i suoi colpi ah tutto qui ah pure è messo pure ma anche bello è molto secante alleno dei miei stivali come prenderlo la loro oh mi sa che dovrò rifare il costo di mello ho il mio il mio presentimento mi sa che non provo a completare le cose e sono da qui contro il boss non ricordo assolutamente niente di questo gioco di questa parte di livello niente ogni volta tagli un cagione al sedere sempre qualcosa di ah non oggi cosa bastano quando spavite il boss ahia ma io ho saltato accidenti non dire niente non dire niente ecco eh tu non dire niente all'ultimo dovrò dovrò ricominciare questo livello per forza va bene quindi termino questa parte di gameplay ci vediamo in una prossima puntata a cercare di prendere tutte le carote tutto tutto quello che abbiamo saltato nei livelli precedenti e ci vediamo in un prossimo video almeno almeno quando ho tempo per registrare perché a differenza di certi giochi come League of Legends che gioco ogni sera quindi il tempo di prepararmi per usare audacity fraps registro poi il giorno dopo tranquillamente monto invece qua devo dedicare un bel po' di tempo infatti è quasi un'ora che sto registrando ci vediamo in un prossimo video